Glamda, uno dei clubbing notturni più seguiti della capitale, approda nella suggestiva location del Quirinetta Caffè Concerto a partire dal 21 novembre. Dopo oltre 70 trapparti ed eventi, oggi Glamda è un affermato progetto di musica elettronica che abbraccia anche i mondi circostanti dell'arte, del design, della moda, ma principalmente della musica in tutte le declinazioni, quella live eseguita dal vivo su un palcoscenico come quella digitale eseguita dietro a una console attraverso DJ set, live set, insieme alle tante variegate forme della cultura contemporanea. Questo è Glamda e l'appuntamento per tutti gli amanti del format è al Quirinetta Caffè Concerto il 21 novembre 2015 per partire con una nuova attesa stagione.